Buongiorno, io sono Luca, uno dei founders della IEX. Per parlarvi di questa meravigliosa scuola potrei raccontarvi della preparazione di alto livello degli studenti, potrei parlarvi dell'attenzione su ogni singolo ragazzo, potrei parlarvi dei risultati eccellenti che ogni anno otteniamo grazie ai nostri studenti. In realtà vorrei parlarvi di tre cose particolari che distinguono la IEX da tutto il resto, perché tutti i licei di Reggio Emilia che sono di altissimo livello conosciamo come lavorano perché fanno parte della nostra storia, tutti noi abbiamo vissuto quel tipo di scuola, ma la IEX è qualcosa di più, è qualcosa di più perché non è basata solo sul modello frontale, ma c'è un lavoro basato su progetti. I progetti permettono ai ragazzi di sviluppare le famose soft skills, ovvero quelle competenze trasversali che solo un lavoro tramite progetti, un lavoro in team, un lavoro dove devi realizzare degli obiettivi, dove devi realizzare un qualcosa concretamente, ovvero l'applicazione della teoria, solo questo tipo di lavoro permette ai ragazzi di andare ad allenare e a scoprire i propri talenti e le proprie soft skills. Potrei parlarvi anche di quelli che sono i progetti interdisciplinari, potrei parlarvi dell'altissimo livello del programma didattico allineato ovviamente con i meravigliosi obiettivi ministeriali comunitari italiani, quindi un liceo di alto livello italiano secondo la tradizione di Reggio Emilia, ma vorrei parlarvi anche di quella che è stata l'evoluzione del metodo didattico, di quello che è stata la struttura, l'evoluzione della struttura a scuola, perché l'evoluzione non è basata solo su un modello didattico, l'evoluzione è basata da tante cose, la struttura in primis e la seconda ve la farò raccontare dopo. La struttura perché il sistema di valutazione è appositamente strutturato affinché i ragazzi vengano valorizzati e valutati sulle loro soft skills, ovvero l'impegno, la capacità di lavorare in team, la capacità comunicativa, la creatività, la responsabilità e ovviamente la capacità didattica. Ma è un insieme di questi fattori, quindi non solo il risultato, ma come si arriva al risultato, l'impegno che ci hai messo, come hai comunicato, come hai affrontato le difficoltà, che creatività hai usato per risolvere i problemi. Tutto questo è il lavoro quotidiano all'Aiex. Ma la vera differenza dell'Aiex è una, le persone, perché qua arrivano e lavorano solo certi tipi di persone, i docenti che vogliono di più, vogliono di più per loro stessi, vogliono di più per i loro studenti. Questo è un sogno e i docenti che lavorano qua vogliono realizzare un sogno che è quello di aiutare i ragazzi a realizzare i loro sogni e quindi allenarli di conseguenza. E basta vedere gli occhi dei docenti. Salve a tutti, sono Lucia Dell'Aquina, dirigente scolastico IEX. Quando mi chiedono qual è la differenza della nostra scuola, perché è nostra, la scuola è dei dirigenti, degli insegnanti, dei ragazzi e dei genitori che ne fanno parte. La grande differenza è l'amore, l'amore inteso come grande bisogno universale e quindi fatto di piccoli semini. La scuola è composta da tanti cuori che battono e in ognuno di loro c'è un piccolo seme da far germogliare. Quindi l'obiettivo della IEX è quello di formare studenti preparati emotivamente intelligenti che possano un giorno affrontare il domani anche nei gesti d'amore. Che cosa sono i gesti d'amore per una scuola? Solo la passione per lo studio, il sentirsi protagonisti della propostruzione, il poter scegliere e il poter decidere di cambiare il mondo per quello che riguarda il loro piccolo. Partiamo dal piccolo perché IEX si dà come obiettivo di cambiare il mondo un ragazzo alla volta. Ognuno di loro contribuirà attraverso l'amore, solo attraverso la libertà della propria istruzione. Scegliere di formarsi con passione, con curiosità è la differenza che permette agli insegnanti degli IEX di lavorare con il ragazzo. All'interno degli IEX i genitori fanno parte di un comitato in cui entrano didatticamente ed emotivamente a far parte ogni giorno della quotidianità dei propri figli. Quindi che cosa succede di diverso all'interno della scuola? In realtà non succede nulla, nel senso che quello che accade è quotidiano ed ogni giorno la differenza che uno porta nella propria vita. L'amore inteso come bisogno, l'amore inteso come obiettivo e l'amore inteso come compagno di viaggio, in ogni giorno, in ogni ora di lezione, in ogni gesto, in ogni gruppo di amici e di persone che si ritrova. Quindi l'IEX è preparazione di alto livello, una preparazione rivolta al futuro non solo didattico ma anche umano dei vostri figli, un'innovazione didattica collegata con le aziende, con i progetti, con lo sviluppo delle soft skills e l'IEX è l'amore, l'amore per se stessi, per il mondo, per l'ambiente, l'amore che si può portare all'interno della scuola. Vi aspettiamo!